Siamo qui a Tramontone con l'associazione Siamo Taranto, l'associazione che supporta proprio sul piano del volontariato, dell'impegno nella raccolta dei rifiuti, l'attività istituzionale di Chima Ambiente Amio e vedete qui a Tramontone quanti volontari armati di rastrelli, di carriole, di secchi, davvero tutto ritrovato. Dal secchio alle piastrelle di lavori edili che qualche incivile viene a buttare qui che smaltire in discarica perché basterebbe poco. Vedete, guardate, questo io lo definisco e non è certo esagerazione o enfasi o retorica, ma l'esercito del bene, così va definito, l'esercito del bene. Pensare che a Taranto c'è una parte sana, tantissimi cittadini sani che amano fattivamente la città e che mettono a disposizione il loro tempo, i loro sforzi per una causa giusta, apprezzabile. Vedete quanti sono, uomini, donne, avrebbero potuto tranquillamente trascorrere delle giornate in casa o al mare o con gli affetti più cari, distrarsi e invece due o tre ore in una giornata possono e devono essere destinati ad una causa giusta, alla difesa dell'ambiente, alla difesa della terra, alla difesa di casa nostra, perché vedete il concetto non è casa nostra intesa come quell'area che si affaccia alle spalle dell'uscio di casa, no, è tutto il creato, la nostra casa e in quanto nostra dobbiamo sapere appunto, come dire, difenderla, tutelarla. Vedete qui, ecco abbiamo dei, qui è la raccolta, no? Il centro smistamento dei rifiuti. Saranno sicuramente dei cani, sacchetti con là dentro gli escrementi. Anche perché l'odore è quello che è. No, assurdo, è semplicemente assurdo, vergognoso. E paradossalmente piuttosto che raccoglierli e buttarli qui sarebbe stato preferibile che si esicassero naturalmente, piuttosto che una cosa del genere. Infatti è una cosa vergognosa. Non posso dire, peccato che il microfono, anzi no, anzi per fortuna dei telespettatori, che il microfono non può rendere certi odori schifosi, però vi può, da osiabondi, però vi posso assicurare che davvero è inconcepibile che nel 2021 certa gente si comporti in questo modo. È al di là di ogni logica, è la realtà che supera la fantasia. È vero, purtroppo dobbiamo constatare che è così, io non lo so. C'è gente che fa schifo, bisogna dire la verità, metteremo i cartelli insieme a Taranto, fate schifo. Perché diversamente non ci sono altre parole. Comprensibile davvero lo sfogo dei nostri amici.